La collaborazione tra pubblico e privato non è soltanto auspicabile, ma va favorita e diffusa a tutti i livelli, nazionale e internazionale. Naturalmente, le istituzioni pubbliche non possono vedere meno al loro ruolo, che è essenziale, quello di garantire una ricerca indipendente, slegata da ogni condizionamento di mercato, capace di dare risposte anche nei casi di malattie rare o molto rare. Nella lotta al cancro, la prevenzione solge, come tutti sappiamo, un ruolo decisivo. Appare anche in questo senso particolarmente apprezzabile il lavoro svolto dell'AERC per informare la pubblica opinione sulle scoperte della medicina e sulle nuove linee guida. È importante che sul tema vengano veicolate sempre maggiori informazioni, che devono essere chiare, corrette e misurate. Da qui si comprende il ruolo fondamentale dei media. Anche loro chiamati a una grande responsabilità.